Dimmi tu! Subito! Ultima parte della nostra assegna odierna, abbiamo anticipato, si parlerà in modo approfondito di Napoli e di Roma, allora andiamo subito sul Corriere dello Sport che apre questa carrellata di notizie sul big match del prossimo turno. Parlando del Rebus Insigne alla ricerca del gol perduto, in ragione anche del fatto che adesso mancherà per un lungo periodo l'attaccante Arcadius Milic con la rottura del legamento crociato. L'attaccante partenopeo ha fatto 4 stupendi assist, però ancora non è riuscito a segnare. Sabato c'è la Roma, questo è l'approfondimento di Antonio Giordano con Insigne che cerca disperatamente la rete. Quell'attacco atomico che da tre anni va oltre 400, manca il graffio dello scugnizio che regala assist a ritmo incessante. Siamo già a 4 ma che insegue sempre il sorriso individuale, quindi il gol principale per lui come argomento clou di questo avvio di stagione. Un Insigne che però ha avuto anche un'importante incidenza in questo avvio, proprio per la capacità di fornire palle filtranti decisivi ai suoi compagni. Nel frattempo non potrà beneficiarne, come abbiamo già anticipato Milic perché purtroppo è stato operato e tra l'altro ha avuto una cosa molto gradevole, tra l'altro da ricordare, tanti apprezzamenti e tanti incitamenti da parte di una nutrita delegazione dei tifosi romanisti, nonostante la rivalità, è una rivalità abbastanza accesa in questi anni, sono arrivati a suo favore tanti apprezzamenti e anche tanti incitamenti per una pronta guarigione. Chissà che questo non possa essere viatico per un avvicinamento ai rapporti migliori e chissà anche al famoso gemellaggio degli anni Ottanta, su cui tanti stanno lavorando dietro le quinte. Nel frattempo Milic è però già in piedi, l'attaccante polacco cammina a Villa Stewart a 24 ore dall'operazione al legamento crociato. Questi sono gli scatti ovviamente con il tutore, un modo improvvisamente e immediatamente indicativo di come l'operazione sia andata ovviamente bene, ma come anche la tempra del giocatore sia importante. Questo video che adesso circola sui tanti social network, quindi dimostra come la prassi consolidata del decorso postoperatorio concordato tra Mariana e il medico del Napoli De Nicola, si è andando molto bene, l'intervento al legamento crociato del ginocchio è perfettamente riuscito, dice il dottore Azzurro. Al momento della diagnosi c'erano dei dubbi, pensavamo ci fossero altre lesioni, ma il suo ginocchio sta perfettamente al di là del danno al legamento. È un ragazzo forte caratterialmente, ha affrontato la cosa con serenità e determinazione, credendo nella sua forza mentale e fisica. Il recupero, speriamo di vederlo correre a gennaio, voglio essere ottimista, i tempi di recupero saranno più brevi di quelli che per precauzione dichiariamo, diciamo tre mesi, tre mesi e mezzo, ma speriamo anche molto meno. Ovviamente non vogliamo forzare il recupero e lavoreremo per farlo riprendere al massimo, ha detto il tecnico del Napoli. Dall'altra parte ci sono ovviamente arrivati, abbiamo già detto, tanti apprezzamenti anche ai tifosi della Roma. Una Roma che è appunto il prossimo avversario, è un avversario a cui tiene molto Pepe Reina, anche ricordando diversi tweet degli anni passati. Il San Paolo ci darà la forza, ha detto in questo estratto di una sua intervista alla Gazzetta dello Sport, la partita con Ingello Rossi è quella giusta per ripartire davanti al nostro pubblico, dobbiamo far essere forti e sfruttare l'appoggio del San Paolo, ricordando che non ci saranno tifosi ospiti, quindi una totale assenza di romanisti. Nel frattempo, a chiosa di tutta questa fase di avvicinamento all'insegna della positività, arriva anche la partita della pace con Totti e Maradona Show per appunto questa partita voluta dal Papa. Questo è l'articolo della Repubblica che ne ricorda, ricorda anche come il 56enne ex fuoriclasse argentino ha rinunciato all'allenarsi a Formello, tra l'altro era anche un'alternativa non allenarsi a Trigoria per non scatenare polemiche anche in qualche modo inutili, l'altro fuoriclasse, il quarantenne di Porta Metronia è concentrato invece proprio sulla sfida contro l'ex squadra di Diego Armando Maradona, appunto il Napoli, quindi questa partita con tanti giocatori ex campioni come Roberto Carlos, Ruicosta, Zambrotta, Davis, Pires, ancora Aldair, Candelà, Bojan, Verón, ancora altri ex naziani come Sergio Conseisau e Crespo e ancora tanti altri. Naturalmente questa partita arriva in un contesto di allenamento, di avvicinamento da parte del numero 10 giallorosso, quella che potrebbe essere la partita clou del prossimo recente periodo. A proposito di questo, molto importante invece quanto sta facendo un attaccante che a differenza di Milik ci sarà ed è Edin Dzeko che è diventato l'attaccante slavo più prolifico con le competizioni nazionali e ha parlato a margine di questa sua bella fase di stagione, sto bene, sto finalmente in forma e si vede, ora voglio raggiungere i grandi obiettivi anche con la maglia giallorossa e ora penso solo al Napoli. Queste alcune delle parole rilasciate da Dzeko ai media bosniaci, archiviata la parentesi della nazionale, adesso rientra a Trigora con grande felicità, dobbiamo e devo migliorare anche in quello che non è stato ancora fatto, ovvero fuori casa, come quando andiamo all'Olimpico, non sarà facile, dovremmo essere pronti per fare una grande partita contro una grandissima squadra, ha detto Dzeko, che appunto Napoli nel mirino, questo è un altro approfondimento, affirma Balzani su Leggo, che ritorna su alcune statistiche anche di Dzeko, che dopo la doppietta di lunedì contro il Cipro è salito a 49 reti complessive in 82 partite, superando di una lunghezza l'Ucraino Shevchenko, che detiene però ancora il primato della prolificità in tutta Europa nelle qualificazioni mondiali, 26 con Dzeko salito a 22, numeri molto alti, numeri che si godrà, senza dubbio Luciano Spalletti che sta rilanciando e tuonando molto anche a livello di personalità su Edin Dzeko, chissà se potrà godersi anche Nainggolan che rimane in dubbio, questo l'approfondimento del tempo a cura di Serafini, nonostante i progressi recenti registrati negli ultimi giorni, Raja Nainggolan rimane in dubbio per la partita contro il Napoli in programma sabato al San Paolo, ma sta migliorando, nel frattempo prosegue anche senza sosta la tabella riabilitativa di Rudiger, probabilmente il tedesco riceverà l'ok da parte dello staff medico per aggregarsi alla primavera di De Rossi nella prossima sfida di campionato contro il Novara, ci vorrà invece più tempo ancora per Thomas Vermanen, il Belga continua ad arenarsi a parte soffrendo di pubalgia e ovviamente anche per Mario Rui, che dopo il primo approccio con la corsa sul campo impiegherà circa un altro mese per riatletizzare la muscolatura del ginocchio dopo la rottura, una rottura simile a quella di Milik e un altro mese ancora per il successivo recupero del ritmo partita, quindi ancora una fase di recuperi, quello più vicino ad entrare in campo è proprio Rudiger, qui fotografato con la maglia della primavera nel corso dell'ultimo test amichevole, una maglia scudettata che ha fatto anche accendere un po' di polemiche, uno scudetto primavera conquistato dai giovani della Roma, dei giovani che sono molto a cuore al nuovo direttore sportivo della Roma Massara, che subentra appunto a Sabatini, che si è dimesso negli scorsi giorni. Cosa cambia per il vivario giallorosso? Cambia tantissimo perché appunto, come ricorda la gazzetta.it, Frederick Massara ha avuto sempre un occhio di riguardo per gli italiani, ne ha sempre seguito le vicissitudini in una lunga fase in cui era un assistente fidatissimo, proprio di Walter Sabatini, prima che Federico Balzaretti venisse ingaggiato, proprio per questo stesso incarico, era Massara ad avere un occhio di riguardo per i giovani della Roma, mandati proprio a giocare, facile quindi che qualcuno di loro possa avere qualche chance in più, per tornare alla base, il cartellino ad esempio più vicino a poter ritornare è quello di Lorenzo, Pellegrini ci vorrebbero 11 milioni a fronte dei 1,25 incassati il 30 giugno del 2015, ma la Roma riporterebbe a casa il miglior under 23 cresciuto a Trigoria negli ultimi periodi, un altro primavera che potrebbe anche interessare molto appunto Ekeba, peraltro low cost, e anche altri come ad esempio Bumbano, Cicce, Beriscia, tanti giocatori anche stranieri che stono in giro e che sono sulla lente di ingrandimento del nuovo direttore sportivo della Roma. Noi con questa notizia però abbiamo esalito il tempo a nostra disposizione, quindi non mi resta che rimandarvi ai prossimi appuntamenti, alle prossime edizioni della nostra segna sportiva. Grazie e arrivederci.